...sarebbe piuttosto azzardato, ma va in partenza la prima corsa di Palermo. Prima corsa di Palermo, cinque indigene di due anni alla via, favori al gioco per il numero quattro Terrors, l'unico che ha già esperienza, l'unico che ha già corso, sia pure squalificato, è il momento dello stacco. Stacco che vede la partenza preponderante e solitaria di Tacos Font, che poi in chiusura ha scavalcato il numero quattro di Terrors come favorito e ha chiuso a 2.23, in seconda posizione Tesis GV, poi ecco Terrors in terza posizione, e gli altri sono tutti piuttosto lontani ed in posizioni tali che ipotizzare un loro recupero appare praticamente impossibile. Dunque dei cinque al via praticamente sono rimasti in tre e sono peraltro i tre più attesi, con Tacos Font, favorito in chiusura, a precedere Tesis GV e Terrors che segue un po' discosto. Andiamo adesso a valutare l'andatura imposta dal capofila per i primi 600 metri, andatura tutto sommato valida, 47 e qualcosina, se viaggia più o meno sul piede dell'1.18.5, anche se di pressione visiva sembrerebbe di un ritmo ancora più rallentato, in realtà adesso ha preso in effetti in mano Cosimo Cangelosi e infatti Terrors si è fatto sotto. è calata l'andatura 1.5 e qualcosina per i primi 800 metri, quindi una frazione in intermedia molto lenta per Terrors che adesso affronta al comando la retta di fronte, primo chilometro in 1.20 con Cosimo Cangelosi che chiama comunque all'azione, nel suo Tacos Font perde un po' contatto Terrors mentre appare più incisivo Tesis GV che lungo l'ultima piegata sposta all'esterno di Tacos Font. Tesis GV con Carlo Giordano apparigliano completamente il battistrada Tacos Font che prova a reagire mentre non riesce ad inserirsi ancora Terrors che ha perso un paio di lunghezze. Stiamo nelle battute conclusive con Carlo Giordano che pizzica con il frustino la sua Tesis GV che mette la testa davanti a quella del capofila e lo batte senza problemi. Vittoria dunque di Tesis GV, Carlo Giordano, trainer e driver, i colori del signor Antonio Cappellano, quota davvero ricca di 4.29 al totalizzatore, secondo posto per il capofila dal via Tacos Font, infine discosto al terzo posto il numero 4 di Terrors, sul mio cronometro ho un tempo attorno al 2.6.5, quindi 1.19 e qualcosina per l'ottima vincitrice Tesis GV in numeri 1 al primo posto, 2 al secondo e il quarto al terzo per la prima corsa di Palermo, ordine d'arrivo naturalmente ufficioso.